Desidero ringraziare Dio per la tanto attessa liberazione del Padre Pierluigi Maccalli, che era stato rapito due anni fa in Niger. Ci rallegriamo anche perché con Lui sono stati liberati altri tre ostaggi. Continuiamo a pregare per i missionari e i catechisti, e anche per quanti sono perseguitati o vengono rapiti in varie parti del mondo. Desidero rivolgere una parola di incoraggiamento e sostegno ai pescatori fermati da più di un mese in Libia e ai loro familiari. Affidandosi a Maria e Stella del Mare, mantengano viva la speranza di poter riavvarciare presto i loro cari. Prego anche per i diversi colloqui in corso a livello internazionale, affinché siano rilevanti per il futuro della Libia. Fratelli e sorelle, è giunta l'ora di fermare ogni forma di ostilità, favorendo il dialogo che porti alla pace, alla stabilità e all'unità del Paese. Preghiamo insieme per i pescatori e per la Libia, in silenzio. Grazie. 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 Grazie.